Eccoci qui, nuova puntata di Caffeina, oggi con noi Alessandra Nencioni, benvenuta, come stai? Ciao, tutto bene, grazie a te. Tutto bene, tutto bene. Tu calciatrice di grande esperienza, sicuramente un'esperienza che puoi regalare alle tue compagne e quindi ti chiedo, entrando subito nello specifico della chiacchierata, quanto è cambiato in questi anni il campionato di Serie A femminile e che differenza c'è ancora con la Serie B? Il campionato femminile in Serie A è cresciuto notevolmente di livello, lo dimostra il fatto che la nostra nazionale è arrivata alle ottave di finale al mondiale, dopo tra l'altro parecchi anni che non partecipavamo neanche, e lo dimostra anche il fatto di tante giocatrici stranieri che vogliono venire a giocare in Italia. Penso che invece per quanto riguarda il campionato di Serie B ci sia ancora un divario molto importante da colmare, però noi abbiamo fatto, veniamo da una Serie B fatta l'anno scorso, sicuramente siamo sulla buona strada, però insomma c'è ancora da lavorare. Certo, un lavoro che però si sta vedendo anche in queste ultime partite. Bevo un po' di caffè. Devi, devi. Quindi un lavoro che sta venendo sempre più fuori e già se si pensa alla prima partita contro il Sassuolo, dove voi comunque avete disputato un buon primo tempo, tra l'altro tu l'assist per il gol di Paola Di Marino, poi è venuto un po' più fuori appunto il Sassuolo. In Coppa Italia avete dimostrato di saper tenere testa, perché poi di fatti il risultato è stato un pareggio, rischiando anche di sfiorare la vittoria. Quindi lo state conoscendo questo campionato e anche questo avversario. Per questo weekend cosa ti aspetti? Sicuramente sì, come dici te, soprattutto stiamo conoscendo questo campionato. Siamo cresciuti dall'inizio dell'anno, abbiamo dovuto fare un po', ci siamo dovute fare un po' le ossa, ecco come si dice, però siamo sicuramente sulla buona strada, l'abbiamo dimostrato nelle ultime partite, anche se i risultati non sono arrivati come speravamo, però sicuramente sia contro la Roma che contro la Fiorentina abbiamo fatto delle ottime prestazioni. Ci stiamo preparando bene, le ultime settimane di allenamento lo dimostrano e quindi sicuramente saremo prontissime sabato. Quanta voglia ha Alessandra di ridare il suo contributo come è accaduto poi nella partita di andata e soprattutto quanto ci credi nella salvezza che poi è di fatti l'obiettivo da raggiungere in queste ultime partite? Io ho sempre voglia di giocare, di dare il mio contributo, ma so anche che a volte d'altronde si gioca in undici quindi a volte il contributo può essere anche un'indicazione a una compagna, incitarle sempre e comunque. Noi ci siamo, noi siamo cariche. Ti farai trovare pronta insomma. Tu tra l'altro tra le tante cose che fai, tra tanti interessi che hai, sei un'ottima cuoca, io ho saputo. E quindi ti chiedo innanzitutto il rapporto con la città di Napoli perché sei capitata a pennello credo. E poi soprattutto quali saranno gli ingredienti necessari per affrontare il sassuolo e soprattutto questo rush finale di campionato? Gli ingredienti principali sono la determinazione, la fiducia nei nostri mezzi e penso che queste ultime partite sicuramente abbiano aiutato le ragazze a capire insomma che possiamo farcela. Un buon piatto di pasta prima di giocare. Appuntate, un buon piatto di pasta, perfetto. E invece quanto è importante l'aspetto emotivo all'interno dello spogliatoio? Cioè questa settimana come la state vivendo? Ma penso ci sia un buon clima, siamo molto tranquille, siamo cariche, stiamo lavorando bene, siamo concentrate. In questo è molto bravo anche il mister che non ci carica troppo di tensione, stiamo trovando il giusto equilibrio, quindi va bene così. E a proposito di mister, come è stato per te trovare poi un conterraneo, un toscano, no? C'è intesa da questo punto di vista? Sì, sicuramente. Ma il Gran Ducato di Toscana, come lo chiamiamo noi, ormai ha trovato spazio a Napoli. Siamo anche in campo, abbiamo due o tre fiorentine, quindi... State colonizzando la città, insomma. Esattamente, esattamente. Allora, adesso noi chiudiamo con una frase che appunto è legata al caffè, quindi vediamo quella di oggi quale sarà. Eccola qui. Alla gente piace piangere sul latte versato, io piango ogni volta che mi rovescio il caffè addosso. E con questa vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Caffeina. Grazie Alessandra. Grazie a te. E in bocca al lupo. Crepi. Grazie a te. Grazie.